Quel dannato drago ha osato minacciarmi, per fortuna sicuramente il fabbro sta finendo di forgiare la sua lama e potremo finalmente avere la nostra vendetta A morte! E ragazzi, come va? Io sono Feri Niki E io sono Stef, che si chiama Sorte de Corte? E finalmente posso tornare a regnare nel mio fantastico villaggio Il primo suddito che si mostra al mio cospetto è il cattivissimo Chester che dice che accidentalmente, ma non è che ci credo tanto, ha mangiato qualche abitante quindi ti posso dare un po' di soldi? Io a sto punto dico, ne abbiamo detto 2000 volte di non mangiare nessuno e ci ha disobbedito A sto punto mi prendo i soldi Va bene Che ti devo di? Sono d'accordo per una volta, ne ha mangiato altri 5 accettando Vabbè, 150 monete per 5 persone Vanno bene i soldi Sì, dai, siamo pieni di soldi Un sacco di cose, aumentiamo la popolazione Vai, vai, vai Uno di felicità Abbiamo recuperato le 5 persone che si è mangiato Chester 5 per 5 e via Non provare a dire Ok Allora Lei è il suo assistente? Sì, no, io sono molto interessata, te lo dico già Sicura? Allora Vuole fare un commercio di caramelle Esatto Praticamente noi avevamo permesso di avere un assistente Ora si sta aprendo un commercio di caramelle Io voglio assolutamente partecipare, quindi sì Sì Ma siamo pazzi? Grazie Perché la mia benevolenza ha voluto che le curassimo sempre in mal di pancia Se non fosse guarda per me, qua non avremmo mai avuto tutti questi soldi Hai mai visto una cesta che fa un backflip? No Sinceramente non l'ho mai vista Non l'abbiamo mai vista Ok Beh, non la vedrai Che burlone c'è questo, eh? Sì simpatico È tornato dal viaggio Certo che vogliamo fare nuovi amici Grazie Ci ha portato altre 5 persone e 5 di felicità Ti vogliamo sempre bene Lui porta sempre buone notizie quando vi è in viaggio Sì, è troppo carino È troppo carino Aumentati di 31 Siamo a 614 300 monete in una sola giornata Si parte alla grande Uh, non l'abbiamo mai visto Allora, allora I'm Yarno of the comfy kingdom You may not believe in this But I am the royal assistant Uh È l'assistente di Re Pin Di King Pin King Pin Ma che nome è? Ma non fa prenderti seriamente, amico mio Scusami, eh Però potresti essere utile Quindi Cosa ci vuoi offrire? Si è presentato e se ne va Vabbè Non ci vuole la prima Un altro, anche tu Non l'abbiamo mai visto Il bottone È un bottone È un bottone Ma cosa sta succedendo in questo episodio? Me lo spieghi? Sì, abbiamo sentito del concilio Ce ne ha parlato l'altra ragazza Ti ricordi? Uh, aspetta Io adesso stavo andando un po' così scoraggiato Pensando che fosse inutile Ci sta dicendo che ci potrebbe dare una mano Ad agevolare la nostra entrata nel concilio della corona Nel consiglio della corona Consiglio della corona Consiglio della corona Capito? Sì, ci voglio entrare Allora, quindi ricordiamoci di lui e del suo amichetto blu Mia regina Ci stanno dando una pessima notizia Le prigioni hanno bisogno di essere riparate Ci stanno chiedendo qualche centinaia di monete Secondo me ci tocca farlo Sì, sì, le prigioni sono sempre importanti Potrebbe vedere qualcuno Eh, esatto Non è il caso Poi capito, vengono a ucciderti Quindi non si sa mai Sempre è meglio tenere tutto in sicurezza Esattamente Tutti i soldi guadagnati sono volati via 300 monete perse Vabbè, però non siamo messi male con i soldi Comunque abbiamo una bella popolazione Un bel gruzzoletto Quindi secondo me Ciao Timmy Certo che puoi portare i tuoi amici Grazie Questo sta portando amici da tutto il mondo Io vorrei capire dove li ha conosciuti sinceramente Vabbè, ma in giro li conosce Allora, questo molder ogni volta è un po' pericoloso Però come Skelly Noi lo lasciamo ad investigare Tanto lo paghiamo 10 monetine Eh, esatto Poi magari ci viene a dire qualcosa di interessante Noi siamo lì prontissimi Esattamente Oh, è tornata Miriamo la tipa strana Dimmi che si No, dai Pensavo fossi tornato per il drago però Te li diamo Cioè io ti sto dando anche fiducia sulle guardie Te le sto armando Fammi tornare i soldi del drago Eh, cioè dai Non ti dimenticare Non ti dimenticare Allora, per il drago la vogliamo Mentre sta diventando gigante il nostro villaggio Sì, assolutamente Allora, ok Allora, praticamente c'è la scimmietta che avevamo incontrato Che sta disturbando i cittadini per tutta la città correndo in giro Ci stanno chiedendo se li dobbiamo mettere una taglia ad osso praticamente Per farla ammazzare Ma poverina, secondo me non c'è bisogno Togliamoci due di felicità ma almeno sappiamo che la scimmietta È stata simpaticissima la scimmietta È tornato il ma... Che facciamo? Eh, è uno di qui Grazie, grazie, grazie Devo andare a giocare alla lotteria Non devo stare qua con sorte de corte Fammi andare a giocare alla lotteria Giusto perché ne abbiamo appena guadagnato 200 E ce ne hai fatto fare 150 tu col tuo commercio Quindi ti curiamo dalle tue caramelle È tornato! Allora, la Dragon Blade la chiama Bellissimo Questo è il modo in cui sto chiamando questa spada adesso Allora, ho comprato alcuni Metalli di qualità Ma adesso ho bisogno di persone che mi aiutino a craftarla Quindi a creare questa spada Sì, sì L'importante è che uccidi il drago Lo devi uccidere Stiamo aspettando da una vita, Fabbro Devi muoverti a fare quella spada Spero che sarebbe la scimmietta Oh, è tornata la scimmietta! Che cos'è questo? Sono un albero, davvero, non avremmo detto Cosa ti servirebbe, scusami? No, la sua casa è stata tagliata No, praticamente Dei tagliallegni hanno tagliato la sua casa Poverino No, ma è tristissima questa cosa Di che cosa hai bisogno? Dici tutto Vuole cento monete Così dice che potrà vivere tranquillo Sì, dai Perché mi dispiace che hanno disboscato la sua Ho letto male Io mi sono fidata di te Non so perché Ho letto cento ed era mille Perché mi fido di te? Perché mi fido? Non l'ho letto perché stai andando veloce Mi sono fidata di te Lo so Sei una persona terribile Sono un consigliere schifoso Sei una persona terribile Sì, abbiamo bisogno di soldi E mangiati qualcuno Ok, ma ci paghi così tanto? Ma lo facciamo sempre Ma bastava dirlo Chester Cioè mi stai andando in rovina Mi stai andando in rovina Non so più che fare Allora, basta con questi spiriti Gli abbiamo già dato duecento monete Sinceramente non è successo nulla Non è successo nulla Quindi basta Che si impicchino questi spiriti Vattene tu Vattene Vattene Cioè porti solo Jella Ci ha tolto due di felicità Solo guardandoci Guarda, è terribile Ciao Timmy Almeno tu guarda Almeno tu guarda Tu fai sempre la stessa cosa Non porti mai brutte sorprese Siamo Però Ci mi hai fatto andare in miseria Però siamo arrivati a mille No, stai zitto Guarda No, adesso ci porta Secondo me il trofeo Lo vedi? E anche duecento monete Ok, ok Perfetto La nostra popolazione ha raggiunto mille Mia regina Non so come Ma è arrivato uno scienziato Faccio scienza per te Mia regina Credo che si voglia proporre di lavorare con noi Allora, ho visto la città crescere E sono cresciuto insieme a loro Ah, la comunità di scienziati sta crescendo insieme Sta crescendo esattamente come sta crescendo la città Bellissimo Adesso hanno il concilio Il consiglio della scienza Perché vivere concilio? Dannazione Il consiglio della scienza E lui è il capo di questo consiglio Ok Ok, si sta semplicemente presentando Niente di troppo strano Spero anche io che tornerai in futuro Quindi bello Potresti farci una roba bella per ammazzare un drago? Tipo un lanciafiamme però che lancia acqua? Tu vattene! Ma oggi è contento C'è la tua difficoltà Ok, ok No, non devi più tornare Voglio qualcuno che mi porti via quest'occhio per sempre Anche io Sono d'accordo su questa cosa Tu puoi fare qualcosa, no? Scienziato? No Un aspirapolvere gigante Il consiglio della scienza Ha fatto dei progetti For a gold generating machine Quindi per una macchina che crea soldi Oh mio Dio, lo voglio questo progetto Allora, immagino che costi dei soldi per costruirla Infatti ce lo stai dicendo Risorse, bla 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 Ma se i miei calcoli sono corretti Potremmo fare dei soldi per il resto dell'eternità Ma la voglio davvero io questa macchina Allora, però per iniziare dobbiamo dare 500 di soldi Quindi 500 di oro per poterla creare Sì, voglio investire Mi sembra una buona idea anche se andiamo in rosso Secondo me è una buona idea Ok, anche io sono d'accordo Magari ci porterà soldi Perché molti all'inizio gli abbiamo dato tanti soldi Ma poi ce ne hanno riportati parecchio Quindi Perdiamo un po' di popolazione Ci rifacciamo i soldi Vedi, è sempre easy gestircela così Quindi Esatto, esatto Secondo me ne varrà davvero la pena Secondo me stavolta va male Però ci voglio provare Bravo Bravo, bravo Stiamo recuperando i soldi Perfetto, perfetto Va benissimo A Zecchi sempre non so come fai Va benissimo È troppo divertente questa cosa Siamo al giorno 48 E ancora non è successo nulla di interessante Stiamo continuando a costruire quella spada Però ancora non è pronta Allora Qui ci sta chiedendo qualcosa di interessante Allora praticamente ha preso fuoco una parte della città E quindi chiede se possono installare un pozzo E direi proprio di sì 150 monete Però sì abbiamo bisogno di dare una mano Uh aspetta dimmi qualcosa Eccola Ok Che ha finito di fare la dragon blade Sì E adesso serve qualcuno Però che Che abbia diciamo Io vado a uscire il drago La forza di prendere questa spada per combattere Quindi la lascia a noi E noi dovremmo decidere chi sarà il nostro eroe No ha detto che ce lo manderà Ah sì Ce lo manderà Ma fai tutto Tu ma sei un grande allora Sì Ok Dobbiamo stare attenti Perché magari può arrivare qualcuno che ci imbroglia Quindi fare tutto con molta cautela Esatto No non ci casco Adesso ci togli un sacco di gente Vai via vai via Ci sarei voluto andare io a uccidere il drago Eh lo so Però sei la regina Ma non mi fa andare Non ti puoi mettere in pericolo Eh no non ci sta dando fastidio Sì Lei vorrebbe la spada Allora Non ti darei la spada manco se fossi l'unica persona in tutta la terra Facciamo il punto della situazione Da quello che ho capito Sì Arriveranno proprio delle persone a chiederci se possono avere la spada Però lei ricordiamoci che è una ladra Io non mi fido molto di lei eh Secondo me ci vorrebbe soltanto rubare la spada Infatti dice non ti fidi di me Esatto Esatto Non ci fidiamo Proprio così neanche te lo nascondo Proprio neanche per sbaglio Quindi sinceramente vai aumentiamo un po' le tasse Pensavo volesse prendere la spada pure lei eh Cioè mi è venuto qualche dubbio Magari scopri La donnetta Vai donnetta Voglio combattere il drago Io voglio lei come pro del guerriero Secondo me ce la può fare Giorno 50 Stiamo andando avanti Una giornata importante Stiamo andando avanti Sto finendo la costruzione alle nostre spalle Guarda ne è tornato un altro di quelli del mare Uh ciao Saturn No L'espansione della nostra città sta diciamo Andando in conflitto con i bordi del loro cielo Sì E quindi cosa vorresti che facessimo? No hanno praticamente fatto un recinto nel suo giardino Cioè cosa possiamo fare per te? No ci piace tantissimo Cosa dobbiamo fare? Cosa ci vuoi chiedere? Allora Ovviamente di smettere di costruire questo recinto Praticamente secondo me siamo in questo momento Se diciamo di no Rischiamo una guerra con loro Se diciamo di sì Non ci possiamo più espandere Non lo so Per ora facciamo di sì Ok Poi vediamo nel caso se in futuro quando siamo più potenti Perché magari ti puoi espandere dall'altra parte Capito Capito Vai sì sì Dacci un po' di soldi Va che ci servono Tanto Tanto Ormai guarda Sinceramente va bene che mangi Tu col giardino è tutto a posto? No ci sono degli insetti Quindi sì Assumi pure chi ti serve per sistemare il tutto E dacci un po' di felicità Che ne abbiamo sempre bisogno È tornato l'albero Aspetta che ci aveva preso Ok Mille gold Cioè ricordiamo questo Ha parlato con le persone Beh ho sistemato un po' di cose Per ora c'è altro solo uno di felicità Quindi ti giuro che gli do un cazzo otto potentissimo Nel caso Cioè lo finisco di spaccare in due Te lo dico Allora Il bottone ha mantenuto le sue promesse Sta cercando davvero di farci incontrare con il re del celestial kingdom Ok E credo che il nostro maggiordomo ci stia chiedendo appunto su questa cosa Magari ci vuole chiedere se c'è bisogno tipo di pulire Sì sì Prepara il castello per i nostri ospiti Quindi sì mi sembra una buona idea Assolutamente importantissimo Quindi ci stiamo preparando ad un incontro con un re Potrebbe essere qualcosa di davvero importante Sì tieni in puro a mangiare un pochettino signor gattino Vedi il bottone alla fine Per ora sta rispettando quello che hai detto Allora mi è sembrato un po' un furbacchione Però almeno sta mantenendo le sue promesse Quindi direi che è ottimo è ottimo è ottimo Esattamente Allora bisogna vedere un pochettino Ciao fisherman Ah ok ci ha fatto un po' di soldi Perché l'avevamo aiutato con la barca Ti ricordi? Certo Ogni tanto ci dà una mano Uh è arrivata È arrivata davvero Antivisor Pia Ciao Pia Vai Advisor to King Andromedus of the celestial kingdom Sembra una cosa super importante Stai dicendo che il castello è bellissimo Eh vedi sì l'abbiamo tutto pulito e preparato per te L'abbiamo preparato per te Quindi siamo felici che ti piace Dice che la nostra città è davvero impressionante Anche i cittadini perché la stiamo espandendo in modo giusto Sì è proprio se ne andate in giro a vedere cosa tutto avevamo Ho detto che è proprio felicissimo Sì perché secondo me ci vuole invitare nel consiglio della corona Dici dici Eh ci siamo quasi guarda Ok Sta cercando un quinto membro Un quinto membro Sì vogliamo essere sì 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 Ok 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 Informerà il re del suo paese Dice che sarà sicuramente felice di incontrarci e di discutere con noi i dettagli E noi saremo felici di incontrarlo Oh ci siamo Che bello voglio entrare nel consiglio Ci siamo Ci siamo Vedi Andromedus secondo me potrebbe essere Sì sì Ok Sì 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 Quindi lei è felice per questo incontro che abbiamo avuto Esatto Diceva Andromedus non è che è il re del 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 regno quello dell'acqua Non credo Dal nome I consiglieri sono cioè camminano non mi sembra Camminano E vabbè quelli erano uno era un tritone uno era una sirenetta quindi non è che camminano Ma stessi venuti da noi camminano Fate strada fate strada per il king Andromedus lord of the celestial kingdom Oh che bello Oh che bello che sei Che bellino Comunque sembra il re del cielo ci fai caso che hanno tutte le stelline addosso Sì Diceva non c'è bisogno di tutta questa entrata e comunque ciao mia bella regina Grazie Secondo me Allora ho sentito molto parlare di te e del tuo popolo quindi della tua gente Allora sono molto impressionati quelli del consiglio diciamo della corona Per quello che noi stiamo riuscendo a fare però C'è un piccolo problema C'è un piccolo problema Qual è il piccolo problema? Credo che tutti e quattro i membri devano diciamo votare per noi Cioè dire che Quindi essere presenti per fare una votazione Sì E vedi? E ha paura che al momento la regina Chantrelle e la regina Sherit stanno avendo una piccola battaglia in questo momento Quindi Stanno un po' litigando tra di loro Dobbiamo cercare di Di calmarle Di calmare questa battaglia E calmare i loro due Per far riunire il consiglio E poter entrare nel consiglio Beh potrebbe essere Cosa possiamo fare per aiutarti e farle calmare no? Sì Magari qualche soldo Possiamo fare Niente non vuoi nulla Buona fortuna Arrivederci Stiamo attenti che qualcuno non venga Praticamente ci ha detto Ehi stai galbo Qua ancora ce ne vuole per entrare Sì siamo felici che tu sei felice Che noi siamo felici È tornato lo scienziato Sì Praticamente ci sta chiedendo altri fondi per continuare la sua macchina dei soldi Però sta dando un po' di problemi in città Perché più volte ci è arrivato un avviso che sia I suoi macchineri fanno fumo e danno fastidio alle persone Fanno troppo rumore e non li fanno dormire quindi Secondo me ormai continuiamo Dici che ormai andiamo e continua a inquinare la nostra bella città Però non va bene questo Se ci dà soldi infiniti sai quanto diventiamo potenti Eh lo so ma tanto vogliamo entrare nel consiglio Quindi il nostro obiettivo principale è quello Cos'è questo? Pontus Ok È dell'oceano lo vedi che è un pesce Ah vedi? Sta parlando delle dispute con la regina And the plant kingdom Boh proviamo a supportare a loro Dato che loro sono venuti spesso da noi Gli altri non ci hanno mai calcolato Quindi proviamo a dargli una mano Per diciamo avere la meglio verso l'altro regno Speriamo che non succeda nulla di terribile Eh no lo spero Perché potrebbe essere pericolosa questa scelta Lo spero pure io Hai un po' di pancia? Che strano eh Non succede mai Dai comunque dire di fermarci così per questo video Secondo me ci stiamo avvicinando a finire il gioco Perché siamo pronti con la spada per il drago Stiamo creando una macchina per i soldi Che continua a chiederci altri soldi No adesso ci chiede personale Guarda ti vorrei spaccare la faccia Io spero che ci sia davvero questa macchina Secondo me Secondo me va via con tutti i nostri abitanti Con i nostri soldi Anche secondo me Eh sì compriamo le spade Dicevo quindi Secondo me siamo ben messi Però ovviamente col prossimo episodio lo finiamo Forse lo finiamo in live E vi mettiamo un sondaggio E decidete voi Se lo finiamo con il quarto episodio Esatto O se lo finiamo in live È una vostra scelta Secondo me può essere divertente in entrambi i modi Quindi vediamo un pochettino Come finirlo Però è davvero carino E divertente Spero che si riesce così Se ci piace E se è la prima volta che ho detto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi niente episodi Ciao e alla prossima Ciao ciao Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti.